La risposta del primo cittadino all'ingegnere Vincenzo Franza è arrivata nella tarda serata di ieri e riassume la posizione dell'amministrazione di fronte a quello che è stato considerato un indebito tentativo di condizionamento sgradevole nei confronti della città. Nella mattinata di ieri la nota dell'amministratore delegato di Caronte Turist che invitava Renato Accorinti a rompere il silenzio sul tema delle sponsorizzazioni e a prendere una distanza netta ed inequivocabile dalle affermazioni della consigliera comunale Ivana Risidano, ma è citata tra l'altro da Franza. Questa è la condizione posta dall'imprenditore per concedere sostegno economico alle manifestazioni legate alla vara e promosse da Palazzo Zanca. Il percorso tracciato dall'amministrazione sino a questo momento, scrive Accorinti, non può essere barattato con nessun maldestro tentativo lesivo nei confronti della dignità di un sindaco e dell'intera comunità messinese. La pretesa di avere chiarimenti, di prendere le distanze rispetto a talune dichiarazioni, sono pressioni inopportune ed inaccettabili. Chi vorrà sostenere economicamente una manifestazione particolarmente sentita dai messinesi è libero di farlo, con un euro o con un milione di euro, secondo le proprie possibilità. Il sindaco infine auspica il gruppo Franza, insieme a tanti semplici cittadini e imprenditori, sostengono le iniziative care alla comunità. Rinunciare a farlo è una scelta altrettanto libera. Caronte Turist non ha gradito le affermazioni della rappresentante di Cambiamo Messina dal Basso, che richiamando il concetto del consumo critico ha invitato Palazzo Zanca a non accettare sponsorizzazioni da uno dei gruppi economicamente più potenti della città. Da chi dichiara di lavorare a sostegno a favore del territorio, ma che nei fatti considera carta straccia l'ordinanza anti-tir, imbarcando pure i mezzi pesanti sulle navi dirette alla rada San Francesco, lo abbiamo dimostrato con le nostre inchieste. Da chi dovrebbe rendicontare la riscossione dell'Ecopass e non sempre lo fa. Da chi potrebbe concedere tariffe agevolate per i residenti che attraversano lo stretto. Queste le dichiarazioni nei confronti delle quali il primo cittadino, secondo l'ingegnere Franza, avrebbe dovuto prendere le distanze. Richiesta che cadrà nel vuoto. Sullo sfondo la manifestazione più amata dai messinesi, che rischia di essere strumentalizzata.